A 5.000 like mangeremo gli insetti Lara, allora, scegli tutti i dolci che vuoi in questo negozio e poi li assaggeremo insieme ai tuoi fratelli Ok Sei pronta? Sì, abbiamo preso questa banana Ovviamente dolce, perché sennò non la prendevo Questo non so cosa sia, però mi ispira, quindi lo prendiamo Comunque questo posto è pieno, zeppo di dolci, ovunque Lara, hai un po' esagerato, eh? Allora, devi dire a tutti che sei la sorella più fortunata del mondo No, 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 voce alta proprio Sono la sorella più fortunata del mondo Ah, ok, non l'avevo capito Allora, noi scondiamo tutto qua sotto il tavolo Perché in questo video io non sarò da sola e neanche solo con la Lara Ci sono quattro posti, come vedete E ho deciso di portare per la prima volta su questo canale di turno, ma in generale su tutti i miei social Tutti i tre i miei fratelli Quindi facciamo entrare Vieni Lara Quanto sei contenta di fare questo video? Da 1 a 10 Troppo perché lo volevo tipo da tantissimo tempo E finalmente Zanzara E lo volevo da tantissimo tempo Quindi ora siamo qui Non si può tornare indietro Vai a chiamare i tuoi fratelli Arriviamo Se avete capito di quanto i zanzari ci siano qua dentro Ci devo fare tipo Sembra un rito, eh Ma in realtà è un modo per scacciare i zanzari Perché se no mi massacrano Finalmente sono arrivati ed è arrivato il momento di chiamare Tutti insieme i miei fratelli Oh Mi sposto, mi sposto Mi sposto Lara Alice E Matteo Allora Io ho preso insieme a Lara un sacco di cose da mangiare Non ve le farò vedere perché le scopriremo piano piano E dovremmo assaggiarle tutti Cioè non ci si può rifiutare di assaggiare queste cose Siete contenti di fare questo video con me? Sì Io sì Sì Allora iniziamo con una cosa classica Caramelle di Harry Potter Sono le c... Ahia Alice Ma cosa ti viene in mente di fare una cosa del genere? È vero però Ho capito ma l'avevi fatto mai Ognuno deve prendere una E possono essere o buonissime O schifosissime Alice non puoi leggere Dai Ma se ne dico Vai prendi Io voglio quella verde Però il vomito Aspetta al mio 3 la mangiamo Dai Lara prendi una C'è una blu Dai Mamma Lara Eh sì poi non so 3, 2, 1 Io non capisco se mi fa schifo Buona La mia è tipo menta C'è menta La mia è un sapore molto strano Che cosa è questa qua verde? Mi sa che è quella che ho mandato io Poi scritto l'inglese Ma uffa nessuno ha preso quella schifosa Trotte dei nez Vabbè riproviamo Alla mia era il marshmallow Aspetta Lara a non mangiarla Bianca Ma riproviamo 3, 2, 1 C'è odore di faba Io ho preso il vomito Aspetta che abbiamo un assistente Che ci dà dei fazzoletti Grazie mille Allora la Lara ha scelto La bevanda Ai Mars Deve l'avevi assaggiato Scocchiamola Chi inizia? Io Dai Matteo Prima di torno dove? Porca Matteo Vanno tutto Si Matteo Io 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 Nesquick Nesquick Perfetto Ci sta Non le piace Non le piace Nesquick 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 Sarato Però buono Matteo non finirlo Matteo basta Abbiamo preso le patatine blu Queste C'è scritto che sono un po' piccanti Sono molto belle Dai Matteo prendi una Io anche 3, 2 Cin cin Tutti 3, 2, 1 Porca Acqua Mi sembra un po' di azzurato Ah ma brucia un bollo Non sono male eh Sono buone E un'altra No però sono posto Alice ma non ti piccano così tanto Ah ti piccano Salutate perché sto registrando un video su YouTube Vieni che ti salgo il po' di Vieni Di qua Ok Ecco Sì Allora Abbiamo preso le gel fish Che sono delle caramelle Racchiuse dentro Un contenitore di plastica Che ha la forma di C'è solamente l'uva e l'arancia Io voglio l'uva No aspettate No se ne sono altri Però io prendo l'uva Perché se no Mi spia Anche questo Io prendo questo Ok Io questo Più avanti E come funziona Matteo avvicinati Aspetta guarda No Devi metterlo in bocca E mordere Ma non posso mordere così No Teo Cosa cambia? Non lo so Non si vede 3 Aspetta 3 2 1 Ah ti nel telefono Un po' di Che non vanno Ma fa schifo Ma fa schifo Ma fa schifo qua Dai ma Ma perché? Avevo fatto un casino Ma ce l'avete esplorato E mordere E mordo Cioè mi sto mangiando la plastica Fa schifo No non ci ho fatta ragazzi Ti avessi mangiato giù Avremmo i tanto Abbiamo fatto un po' un casino Però dettagli Non mi piacciono proprio Che schifo Quella lua è buona Mi piace Dammi a me Dammi a me Spock corn aglio Oreo Questi in te Dovrebbero essere abbastanza buoni Speriamo Anjusa Dai lanciamolo tutti Prendiamo 1 2 3 Dove è andato? Molto buono Ci sta È una combo molto buona Rana Ma buona Molto 10 Oh oh Questi sono Gli Oreo Non lo so Cioccolate Non lo so Però Non è un Oreo Lara Iro Iro Li ho visti colorati C'era un unicorno Li ho preso Ah ma sono Ma sono i cosi da mettere nel No Io non ho l'età Allora Lato negativo È distrutto E anche io ho rotto a metà L'altro lato negativo È che non corrisponde A quello della scatola Magari Però assaggiamolo ok 3 2 1 Non mi piace Ci sta Mangiabile Mangiabile La Lara Ha deciso di prendere Una banana Che non so cosa sia Sarà una ciuppa ciuppa Io non ciuppo eh No Non ci da labbra È la banana No è una caramella No amore mio Ma che schifo Se tu ti lo lecchi così Non lo lecco anch'io È fatto apposta Mattio guarda Guarda apposta Per me non è da leccare Sì e no Cosa devi fare Prossimi Sono dei marshmallow Ricoperti di cioccolato Però all'interno C'è il marshmallow Il marshmallow Carini Sono molto carini eh Ciocco mello Si chiamano Bello Tutto l'ora Scusate In questo momento Tutta la giornata Ma dai Che schifo Ma tutto in un colpo No Ma alla fine Ma l'altro è interno Ma bello il cioccolato Bravo Fa cagare Non mi piace È dolcissimo Mamma mia Vuole un altro No Dai Fesce a cuarci la bocca Ho preso queste gomme blu Sono come normali Sono del ciclo Dato che ci sarà Una seconda parte Paga Chi fa La bolla più piccola La seconda parte Sarà una seconda parte Più americana E bisogna comprare Gli altri cibi Ma hai In che soldi di trado E che senso ha Fare la bolla più piccola Non la faccio E vincere No Paga Perché è un altro Se fai la bolla più piccola E se la fa la Laura Ma cosa vuol dire Fai la bolla più piccola Tu devi fare la bolla Chi la fa più piccola Perde E deve pagare il cibo Ah E dillo prima E la così E c'erano No No Scusate Io vedendo Ti voglio tutti Ma io non riesco a morderla Non lo sape Come fai fare la bolla Non ti può fare Per ora no Dovei fare la bolla Non si fa Niente si fa Favo io Favrò io Che ci devo fare Allora Mi fa la deciso io Perché ci ispirava Faccio un blu Mi fa una cosa molto aspra È un po' maro A te mi piace Non è maro Assaggia Matteo prima Matteo Matteo Basta Matteo Ma poi c'è No Devi provare anche te No Infatti C'è la consistenza della mousse E poi Ti mangia le bambine A me fa schifo No Mangia Hai detto che bisogna provare Se no Mamma mia Assaggiamo quella mia La felice Vediamo la Lara Più buono questo O l'altro Più buono questo Asprissimo Non mi piace Assaggiamo strawberry Prima Lara Matteo Più buono di tutti Ha detto Dici che sono tutti Più buoni di tutti Credibile Sì Sono tutti asperi Sto per vomitare Mi fa schifo Questo è classico Infanta alla berry Chi ha scelto la Lara? No come tutte queste cose Ed è blu raga Vai Sa di niente Non sa di niente È top Non le piace Matteo Sa di profumo Sa di profumo Faccio rabbè L'ultima cosa che ci manca È No che schifo No no Questa non la voglio No Non mi piace Non ti ne va schifo il cocco Abbiamo fatto che bisogna mangiarle tutte Questa è la crema al bounty Già al bounty è buono Vado a prendere il cucchiaino No ma tu devi mangiarlo eh Inizio io dato che sono la più coraggiosa Vai Mi sa Bravo Sai che mi piace L'ultima cosa è questa Ma secondo me è un cilabra Ah no è una città Ah no È una crema È tipo la nutella È quella più buona eh Che schifo Complimenti a chi l'ha inventato questa roba Questo video è terminato Grazie mille a tutti per tutta Grazie mille a tutti Grazie a te Grazie Ciao 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 Ciao